Botta e risposta fra il sindaco di Agropoli Adamo Coppola e la consigliera comunale d'opposizione Gisella Botticchio. È già da giorni che si parla della denuncia ricevuta dalla Botticchio da parte dei vigili urbani di Agropoli in merito a fatti accaduti nello scorso agosto. La consigliera ai nostri microfoni aveva smentito le accusi a suo carico dichiarando che in realtà non si sarebbe rivolta in modo ingiurioso nei confronti delle forze dell'ordine comunali ma che avrebbe dato solamente dei consigli e i vigili che avevano appena fermato una festa in un locale in zona Porto sprovvisto dei permessi e a cui era presente anche la Botticchio. E così prontamente è arrivata la risposta del sindaco Adamo Coppola che ha subito definito le dichiarazioni della consigliera come bugie e ha voluto parlare in prima persona della verità. Mese di agosto il comandante della polizia municipale e i suoi uomini sono tempestati da decine di telefonate e di richieste di intervento su un'attività commerciale che a causa della musica elevata in termini di volume disturbava tutto il vicinato. Il comandante con i suoi uomini intervengono in loco e trovano una situazione che era andata addirittura oltre rispetto a quello che attività commerciale già aveva in termini di piccoli problemi autorizzativi. Mentre quindi il comandante gli uomini della polizia municipale svolgevano la propria attività arriva il consigliere che era lì quale privato cittadino e anch'essa si stava divertendo, ci mancherebbe altro, ballando e cantando insieme a questa allegra compagnia. Intervenne in maniera sgarbata, spropositata, offendendo le forze dell'ordine lì intervenute perché avevano interrotto la serata senza comprendere il motivo per cui la serata era stata interrotta, utilizzando termini volgari, offese vere e proprie. Il comandante dei vigili ha mantenuto la calma, è andata avanti nelle sue attività e questa persona non contenta ha cominciato a istigare i ragazzi che erano lì, che erano certamente un po' nervosi perché la serata si era interrotto loro malgrado. Istigava, come dicevo, questi ragazzi che hanno cominciato a inveire anch'essi contro la Polizia Municipale e hanno costretto il comandante a interrompere gli accertamenti che stava svolgendo. Quindi il consigliere comunale in quel momento ha commesso tre reati. Il primo reato, offesa a pubblico ufficiale. Il secondo reato, interruzione di pubblico servizio. Il terzo reato, istigazione a delinquere. Una cosa gravissima. Questo è quello che è accaduto quella sera. Altro che chiacchiere.